blitz dei carabinieri della compagnia comando di assisi questa mattina nei parcheggi della grande basilica di santa maria degli angeli i militari a seguito del maggiore marco vetrulli sono entrati in azioni poco dopo le 11 di oggi obiettivo fermare il fenomeno dei parcheggiatori busini e quello dell'accattonaggio i carabinieri con una manovra di accerchiamento hanno cinturato il parcheggio che serve la basilica di santa maria degli angeli dove c'è sempre grossa presenza di accattoni e parcheggiatori sei dunque le persone fermate e portate nella caserma della compagnia i carabinieri hanno operato con quattro autovetture e otto militari che hanno controllato identificato gli stranieri intenti a importunare turisti e residenti con richieste di denaro per uno di loro è scattata anche la denuncia penale in quanto in ottemperante all'ordine di mostrare i propri documenti di identificazione nel complesso sono state elevate contravvenzioni per alcune migliaia di euro grazie a tutti grazie a tutti